A Palma di Montechiaro la festa della patrona e stalli gratuiti per gli esercenti, come deciso dall'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Stefano Castellino. Gaetano Ravanà. E' stato prorogato al 28 agosto prossimo il bando aperto agli esercenti che intendono partecipare ai festeggiamenti di settembre a Palma di Montechiaro dove si festeggia la patrona Maria Santissima del Rosario. Su iniziativa del sindaco Stefano Castellino, dell'assessore Angela Ingorvaia è stato deciso che non ci sarà nessuna tassa per lo stallo delle bancarelle. Naturalmente fino al completamento dei posti previsti. In passato lo stallo comportava una spesa che andava dai 20 agli 80 euro giornalieri. Chiaramente per evitare di rimanere tagliati fuori occorrerà prenotare subito il posto. Abbiamo deciso, dicono il sindaco Stefano Castellino e l'assessore Angela Incardona, di concerto con l'intera giunta municipale di venire incontro agli esercenti che causa Covid hanno subito negli ultimi due anni dei danni notevoli. Come amministrazione comunale pertanto abbiamo voluto dare un segnale alla categoria. Bisogna però affrettarsi per non rischiare di rimanere fuori anche perché gli spazi non sono illimitati.